L'amministrazione comunale di Battipaglia ha avvisato i cittadini con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro, nonché le famiglie numerose con 4 o più figli a carico fiscale con ISEE non superiore a 20.000 euro, che possono beneficiare di numerosi bonus, a cominciare dal bonus elettrico per disagio economico, il bonus per disagio fisico senza riferimento all'ISE, purché il componente familiare utilizzi una o più delle apparecchiature elettriche salvavita attestate dall'ASL, il bonus idrico che garantisce la fornitura gratuita di 18,5 metri cubi d'acqua su base annua per ogni componente della famiglia anagrafica, il bonus gas per chi possiede il gas della rete cittadina del metano per uso cottura e acqua sanitaria oppure per uso riscaldamento acqua sanitaria e cottura cibi. La domanda va fatta presso l'ufficio ISEE in piazza Aldomoro numero 1 in orari di apertura al pubblico da lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.00. Grazie a tutti.